ben trovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di col veloce ordinaria tutto quello che c'è da sapere veniamo alla prima domanda sulla col veloce cosa accade se un aspirante al ruolo da col veloce ordinaria rinunciasse al ruolo assegnato cioè praticamente se facesse la domanda ottenesse il ruolo e poi vi rinunciasse in pratica non succede nulla si resta inseriti nelle gradatorie finalizzate alle emissioni ruolo nella regione oppure nella provincia di provenienza nella regione in caso da gradatore di merito o nella provincia in caso da gae inoltre si resta inseriti in tutte le gradatorie finalizzate alla stipula di una supplenza annuale o temporanea di gps o gradatore di istituto g e diciamo anche una cosa molto importante che è chiaro che se si rinuncia alla col veloce non si potrà prendere dalla stessa col veloce per questo anno cioè per il 2023 e 2024 altro ruolo domanda numero 2 se si rifiuta per una tipologia di posto classe di concorso da col veloce si può accettare per una tipologia o classe di concorso diversa nell'ambito della stessa procedura 2023 2024 ecco questo sì senza alcun problema si potrà essere immesso il ruolo per altra tipologia di posto classe di concorso per cui si ha titolo e che sono state indicate puntualmente nella domanda di partecipazione che è una domanda unica in cui chiaramente si esprimeranno le preferenze per l'entrata in ruolo per cui questa cosa è possibile rifiutare un ruolo per un altro ruolo nella stessa col veloce domanda numero 3 domanda numero 3 ultima domanda di questa edizione di a domanda risponde se un docente è entrato di ruolo da gradatore di merito potrà partecipare alla col veloce i soggetti già di ruolo oppure già destinatari di proposti di assunzione a tempo indeterminato per il 2023 2024 sono esclusi dalla procedura della col veloce quindi escluso anche chi è entrato in ruolo da gradatore di merito per il 23 24 speriamo che queste risposte siano utili ai nostri telespettatori seguiteci nei nostri canali social di facebook e youtube le nostre dirette proprio su argomenti come quello della col veloce delle 150 preferenze ma tanto altro ancora e leggeteci nel sito nostro www.tecnicielascuola.it arrivederci e alla prossima grazie a tutti